Musica Ciao bellini e ciao belline bentornati o benvenuti sul mio canale Oggi sono qui per provare insieme a voi dei nuovi prodotti che mi sono stati dati nell'ultimo vlog Quello che ho girato al centro estetica naturale della mia amica Margherita E sono prodotti di Isomer per la skin care del viso a base di vitamina C La confezione comprende tre prodotti La C-Clazy Mousse Il Sea Serum Complex E la Sea Action Cream La confezione sembra contenere abbastanza prodotto E ha un packaging molto carino Bianco con questa bandera argentata E che ci ricorda costantemente con il logo in arancione Che è a base di vitamina C Ora andremo a provarlo insieme Come prima cosa bisogna struccare il viso E andare a bagnarlo con dell'acqua E il primo prodotto che andremo a utilizzare è la C-Clazy Mousse E servirà per preparare la pelle Rimuovendo tutte le impurità rimaste del make-up Andiamo a stendere questa mousse e a massaggiarla delicatamente sul viso Poi la disciacchiamo e potremo asciugare il viso tamponandolo leggermente con un asciugamento Come secondo step andremo a utilizzare la Sea Serum Complex E andremo a stenderla su tutto il viso Come preparatore a ricevere la crema idratante Che andremo a stendere nel terzo step Il terzo step infatti è l'applicazione della Sea Action Cream Che è anche la fase finale di questo nostro trattamento Questo è il risultato che fa sulla mia pelle Io sono ormai 4-5 settimane che sto utilizzando questi prodotti E mi ci sto trovando davvero bene E li posso dirvi che li inserirò all'interno della mia skin care routine E a proposito, sappiate che a breve sicuramente vi parlerò ancora di skin care Volevo proprio andare a realizzarvi un video di questa tipologia E nulla ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto Ci vedremo presto con un nuovo video Vi lascio qui sotto nell'info box tutti i miei social vari Per seguirmi sempre e rimanere sempre al giorno sotto le mie varie news E nulla Vi mando un grosso bacione e ci vediamo presto Ciao Avellini Ciao